Pedro e Di Polito continuano a studiare il comportamento delle zanzare, tanto che liberano gli insetti all'interno della bottega per seguirli da vicino, mandando su tutte le furi Delores. Padre e figlio iniziano a studiare anche le cicale, ma Pedro viene criticato perché si dedica poco all'attività di sindaco. Vista la fissazione del marito con gli insetti, Delores è sempre più nervosa, Mariana e Rosario le consigliano di spingere l'uomo verso altri impegni.